ciao a tutti benvenuti a questo momento di ascolto cari fratelli e sorelle scusatemi il venerdì non ho potuto registrare il vangelo del giorno perché stavo a madrid a celebrare con i miei amici pablo e marta il loro matrimonio quindi saluto a loro un saluto per loro e noi preghiamo per voi preghiamo tutti per pablo e marta quindi che iniziano questo percorso insieme a cristo senz'altro bene il vangelo di oggi è il vangelo di marco capitolo 8 versetti dal 11 al 13 è un vangelo molto corto ma sempre una luce che viene nel nostro aiuto iniziamo nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen dal vangelo secondo marco in quel tempo vennero i farisei e si missero a discutere con gesù chiedendoli un segno dal cielo per metterlo alla prova ma egli sospirò profondamente e disse perché questa generazione chiede un segno in verità io vi dico a questa generazione non sarà dato alcun segno li lasciò risali sulla barca e partì per l'altra riva parola del signore dove a te o cristo l'incredulità interessante perché questi farisei sono ipocriti e allo stesso tempo non credono a Gesù ci può capitare pure a noi la ipocresia la ipocresia tu dici a tutti che tu hai fede che tu hai fatto tanto che hai tanti memoriali ma poi in verità non è così bene vediamo cosa succede in questo vangelo i farisei si misero a discutere con Gesù la prima cosa i farisei pensano di sapere tutto sono i grandi i religiosi del dell'epoca e non si permettono di accettare che Gesù sia il figlio di dio che Gesù sia il messia che fa tante opere buone guarisce le persone e lui una un segno è il messia è un segno ma loro non lo possono accettare c'è questa incredulità questa cecità questo che impedisce a loro di amare nella libertà ripeto può capitare pure a noi di stare a discutere nella nostra vita con Gesù e tu non capisci perché perché non vuoi accettare il segno concreto che ti sta dando il signore e qual è il segno concreto è questa chiamata la conversione problema che nessuno si vuole convertire ecco il segno il segno è la conversione accettare che dio ti ha riscatato che dio ti ha perdonato i peccati in cristo attraverso cristo attraverso chissà di che cosa allora e dice chiedendoli un segno dal cielo per metterlo alla prova questa è la perversità dei farisei che può capitarsi pure a noi ripeto sempre questa cosa è sempre il nostro commento al vangelo sempre esistenziale mai 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 parole belle parole che ne sono sempre così con i piedi per terra sei tu questo del vangelo sei tu che mettendo la prova Gesù nella tua vita sei tu questo che chiede un segno dal cielo che si faccia la tua volontà che la tua volontà o che la volontà di dio sia giusta la tua volontà un segno sapete che nell'antico testamento i segni rappresentavano i prodigi di dio le grande opere le meraviglie del signore tipo che ne so la creazione e non lo so abbramo che lo chiama la fede i grandi prodigi del signore l'essodo l'essodo è la manifestazione più alta più grande di dio è la manifestazione dell'alleanza l'alleanza i dieci comandamenti quando dio stabilisce il suo popolo e gli da una identità io sarò il vostro dio e voi sarete il mio popolo dio vuole dare una identità al suo popolo e questo è il prodigio cioè passa dal dalle parole alle opere dio che ha riscatato israele dalla schiavitù dell'egitto e lo ha portato alla terra promessa questo un segno che viene dall'alto e così i farisei mettono la prova a gesù perché non vogliono riconoscere che lui sia un segno che è lui che realizza i prodigi che è lui che guarisce i malati guarici i malati e quindi che cosa chiede questa generazione e questo gesto bellissimo di gesù ma egli sospirò profondamente dal profondo del profondo del suo essere dice la traduzione vera del suo essere cioè dell'essere dio cioè è un sospiro profondo di amore e di sofferenza per la incredulità ecco ricordate nel vangelo quando cristo dice guai a voi che non è una minaccia sino è il sentimento di dio i sentimenti di cristo che parla san paolo gli stessi sentimenti cioè i cristiani sono chiamati all'evangelizzazione sentendo questo sospiro dal profondo del suo essere dal profondo dell'essere di cristo dall'amore di dio manifestato in cristo per noi per noi per te per me e allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo dare questo segno a questa generazione lo ha dato cristo lui dice non si darà nessun segno perché il segno ce l'avete davanti non ci sarà un altro segno non è che sta semplicemente negando questo sta dicendo non ci sarà un altro perché questo segno voi non lo vedete come tanti di noi che non vediamo tante volte i segni del signore siamo testatura e il segno è il mistero pasquale di cristo cristo che ha vinto la morte che ha risuscitato questo è il segno ricordate che il vangelo di matteo 12 parlerà di questo il segno di di giona no e allora questo sappiamo che è la risurrezione il segno un altro segno che lo stesso segno sempre e viene affidato no a un altro segno che viene presso dallo spirito santo che è la chiesa questo un altro segno che manifesta la chiesa questi segni della fede che sono l'amore e l'unità l'amore e l'unità solo così possiamo soffrire per l'incredulità degli altri e essere spinti alla evangelizzazione alla testimonianza con la nostra vita che il signore vi benedica nel nome del padre del figlio dello spirito santo ame invito a tutti a unirsi a questo tempo di evangelizzazione in questo canale di youtube quindi lasciateci un like mi piace iscriviti al canale e attiva le notifiche che così non ti perdi nulla puoi lasciare anche qui sotto nella zona dei commenti le tue preghiere noi preghiamo preghiamo soprattutto per questi fratelli che si sono sposati paolo e marta quindi e potete condividere anche il link di questa pubblicazione un abbraccio a tutti buona settimana e buon lunedì grazie a tutti